A Radio DJ, al boss del weekend, siamo con Cristina Verderio, soprano lirico che ci ha fatto emozionare. Sì, abbiamo appena preso parte, noi che siamo in questa stanza, ma tutti quelli che ci stanno anche ascoltando, abbiamo tutti insieme preso parte ad una bellissima cerimonia vocale e c'è Lorenzo che ci scrive, ragazzi, io non so cosa sia, ma mi sono messo a piangere. La commozione, questa è una delle cose più belle che possa capitare, quando senti che ti tocca proprio le corde dentro la voce, il potere della voce e ti vengono le lacrime perché in quel momento ti stai emozionando. Sì, è fantastico, anzi ringrazio questo ascoltatore perché io penso che chiaramente l'esperienza dal vivo sia più diretta perché c'è proprio un contatto fisico con le vibrazioni sonore. Perché la differenza è che tu normalmente ti rivolgi a della gente che sta lì proprio di fronte a te senza microfono e arriva la vibrazione delle tue corde vocali. Esattamente, in questo caso vedere un feedback del genere, ma anche per me, metto a piangere anch'io, nel senso piangiamo tutti. Tu improvvisi tutto, giusto? Non ti sei preparata? Anche adesso non avevi nemmeno scaldato la voce? No. Tu al momento decidi che vocalizzo utilizzare. Sì, in questo caso ho scelto proprio di portare l'esperienza improvvisata, quindi unire il potere della voce ma anche a quello della sorpresa perché la stessa esperienza con un brano conosciuto può essere già condizionata in qualche modo. Beh, c'è più pensiero a quel punto, uno magari aggancia dei ricordi, aggancia delle cose, invece così ti senti proprio portato, portato verso un luogo inesplorato. Allora, cosa facciamo? Proviamo a chiamare, cioè a sentire se gli ascoltatori hanno voglia di una cerimonia personalizzata. Magari hanno delle richieste, magari hanno dei sentimenti, magari vogliono sentirsi meglio perché sono in un momento di depressione, magari hanno una difficoltà, il peso del lavoro, della famiglia, vogliono alleggerirsi. Insomma, lo devono dire loro, lo devono dire gli ascoltatori. Esatto, allora scriveteci al 347-342-5220 oppure diretta at dj.it e vi faremo la cerimonia vocale personalizzata. Magnifico, ci sentiamo tra poco.